Una bella iniziativa per rivitalizzare il territorio. Sì, siamo alla quattordicesima edizione della Sagra della Frittella e dopo Abruzzo dal Vivo è la seconda iniziativa del mese di luglio che facciamo nel nostro territorio. Insieme alla Sagra della Porchetta e alla Sagra del Rosticino sicuramente riusciamo a coprire tutto il calendario estivo di eventi. Dal 26 al 29 luglio ad Ornano Grande e Colle Dara si terrà la quattordicesima Sagra della Frittella Ornanese. Sì, iniziamo questa quattro giorni di festa molto attesi non solo nel paese ma anche da tutte le persone che negli anni ci hanno premiato con una grande affluenza. Piatto tipico la Frittella ma non c'è solo questo? No, negli anni abbiamo aggiunto altri piatti per soddisfare le esigenze crescenti dei vari visitatori. Abbiamo aggiunto anche quest'anno per esempio il formaggio fritto e i fiori di zucca appunto per incrementare l'offerta di piatti. Non solo cibo ma anche tanto intrattenimento, spettacolo? Sì, ogni serata sarà rietata da vari gruppi musicali. La prima sera ci saranno gli Underlights, poi proseguiremo con la cover di Vasco Rossi, il sabato con la cover di Ligabue per finire con la serata di domenica con dei balli in piazza e liscio.